Quando ha saputo che quel cane doveva essere sottoposto al suo stesso intervento chirurgico. Non ci ha pensato due volte e lo ha adottato. Protagonisti di questa storia sono Sue Blanchenship e il cane Bruno. Lei nel 1954 stata operata al cuore e ora sta bene. Poi nei giorni scorsi grazie a un amico ha scoperto che c'era un cane nel rifugio affetto da soffio. Al cuore che necessitava di un intervento chirurgico. Un'operazione costosa, quasi 4.000 euro, ma necessaria per permettergli di continuare a vivere serenamente. Sue Blanchenship, con l'aiuto della sua famiglia, ha iniziato una raccolta fondi che in pochissimi giorni ha raggiunto l'obiettivo. Bruno stato operato a fine anno e ora sta bene. Ma soprattutto stato adottato dalla donna. Una storia davvero a lieto fine.